Bene, siamo pronti all'arco. Vieni Giuliana. No, no, no. Allora, sono le... È l'una meno un quarto. Perché quel... Perché quel... Perché quel... Molto bene. Giuliana oggi... Giuliana per piacere. Giuliana oggi è passata a comprare... La cannella. Volevamo provare a fare... Provare a fare... Ci proviamo. Il cinnamon challenge. Che consiste fondamentalmente nel... Io sembro Fabio e chi stai già. Guardi. Allora, io e il buon Fabio... Dobbiamo mangiarci un cucchiaino. Facciamo vedere il cucchiaino. Di cucchiaino per piacere, Giuliana. Eh, cucchiaino. Il cucchiaino di cannella. Bene, allora sarà un cannella. Io non solo metterla nel cucchiaino. Però... Eh, scusami. Secondo me... Scusa, però se tu lo sbatti sul cucchiaino è normale che cade in vecino. No. Giuliana, non sulla mia mano. Allora, riempiamo. Aspetta, riempi. Prima di l'altima, riempi. Perché c'è un capello? Dai, Giuliana che mi sta già... Sto male. Sniffando sta cosa. Esatto. Cioè, era semplice. Facciamo l'altare. Non toglie. Ma aspetta, aspetta, aspettami. È ovvio che ti aspetto. Ma dai, posso sgabberare? Non vuoi portare l'acqua? Prendi l'acqua. Ok. Acqua. 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 Grazie, io ci sono anche l'Aribo. C'ho l'ansia. Allora, l'ha provato tutto il mondo. Ma solo io e Giuliana ce la faremo veramente. Io non ho mai detto... Facciamo un cinnamon sugar. Io non ho mai detto mi piace la cannella, così. Io non entro nella quadratura molto bene. Un attimo, se c'è una sola bottiglietta d'acqua, no? Cioè, faremo a volte. Esatto. Tre, due, uno. La tenza. La puoi. La dedo. La dedo. La! 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 Sto male, carta, ma che male Ma ce l'ho nel naso Ma che figlio, ce l'ho nel naso Un fuorionda, non fatelo mai Queste potrebbero essere le conseguenze Tutto bene? Io ho la cannella nel naso Penso a sniffartela la cannella Giuliana, tutto bene? Stai sudando? No Io ho cambiato voce nel frattempo Ragazzi l'esperienza di un'esperienza mistica direi Ho visto il tubo Io ho visto la luce sfondata Tu non ero certo Ci vediamo al prossimo challenge Peperoncino piccante Strapiccante, quelli piccolini che muoiono Abba nero Muoiono Ci svegliamo sul bel cifre Vuoi che muoiono? Ovviamente ci vediamo al prossimo challenge Giuliana sta bene Da Cindy e il buon padre È tutto È tutto È una buona linea Ciao ragazze Bruh 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 Bruh